L'agro sarnese Nocerino, ormai da diverse settimane, è nella morsa dei ladri una vera escalation che sta investendo l'intero comprensorio con forti negli appartamenti, presi di mira agli esercizi commerciali, rapine, scippi in strada dal centro alle periferie, assalti anche agli stadi comunali da bande del rame, prese di mira anche le scuole e trafugato il materiale didattico. Sono continui gli incontri istituzionali anche con prefetto e questore, riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Da Noceri inferiori a Sarno, da Scafati ad Angri continuano però gli episodi gravissimi. A Noceri inferiori furto di centraline elettroniche nei giorni scorsi, nel mirino dei ladri diverse autovetture con l'asportazione anche di autoradio e navigatori satellitali. Carabinieri, polizia, lavoro con indagini serrate su tutto il territorio e furti poi nelle zone periferiche, in particolare le aree di Fiano e la zona del cimitero. Tra le vittime dei furti negli appartamenti e nelle villette c'è anche un assessore dell'amministrazione del sindaco, Paolo De Maio. A Sarno diversi anche gli atti vandalici, al teatro dell'Ise, compreso furti poi nelle abitazioni e addirittura una rapina ad un distributore nelle ultime settimane. Poi furti di fili e cavi in rame allo stadio Felice Squitieri per un danno di circa 35 mila euro, un danno anche alle società che quasi non potevano più usufruire dello stadio comunale. E poi la sinergia tra comune e Sarno servizi integrati per il ripristino immediato dell'illuminazione e dei servizi per consentire proprio alle società sportive di usufruire subito dello stadio. Ed ha scafati furti nelle scuole blitz dei carabinieri nel centro storico pochi giorni fa, in particolare in una traversa poco distante dalla piazzetta Sansone, dove è stato ritrovato il materiale rubato in alcuni istituti scolastici del territorio. Rinvenuto parte del materiale trafugato con diverse limbre, lavagne interattive multimediale ed altro materiale didattico, tutto nascosto in un garage della zona. Nella morsa dei ladri anche la città di Angli con furti negli appartamenti, scippi, furti agli esercizi commerciali ed in azione anche qui la banda del rame allo stadio Novi. Servono sicuramente più uomini e più mezzi su tutto il territorio, lo chiedono i sindaci che stanno anche investendo nel potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale.